Sì, intanto l'addizione più completa è contratto di fiume e di lago. Si tratta di una pianificazione che in Abruzzo non è stata mai utilizzata, che riguarda i laghi e i fiumi abruzzesi, per i quali attraverso il dato identitario del fiume o del lago si pianifica intorno a questo elemento di identità tutto quanto un percorso che parte dal risanamento laddove è necessario per poi far sviluppare intorno ai corsi fluviali o lacustri quelle che sono le dinamiche anche economiche e sociali di un territorio. In termini di sviluppo che cosa significa per il territorio? In termini di sviluppo significa che ci sono delle località, Noi per esempio ne abbiamo già ieri parlato a Villalago dove c'è il fiume ma c'è anche il lago di Scanno che per due terze è di proprietà del comune di Villalago e per un terzo del comune di Scanno che credo esemplifichi un po' quel dato identitario per la quale tutta l'economia, in quel caso turistica, si muove attraverso il lago con tutte le implicazioni che questo comporta. Lavorare con un'autorità specifica che si muove su queste problematiche significa intanto mettere in piedi un discorso di risanamento laddove è necessario e poi di conseguenza far lievitare intorno a questi elementi identitari tutto quanto il territorio e la sua economia. Grazie. Sono anche risvolti sulla sicurezza per evitare casi come la Sardegna? Esattamente, è uno strumento che oltre a essere di aria vasta perché mette in rete tutti quanti i territori per i quali i fiumi passano è anche e soprattutto un elemento nel quale la sicurezza, perciò il risanamento e la sicurezza sono prese in considerazione proprio per evitare alcuni casi come quelli che in Sardegna sono emersi per i quali poi il danno azzera tutto il lavoro che si è fatto. Perfetto.